Il diabete ormai è una malattia epidemica che colpisce dal 6 al 10 per cento della popolazione a seconda dell'età. Qui a Galarate Busto nella Valle Rona abbiamo almeno 15 mila pazienti attivi nel senso che afferiscono regolarmente il nostro ambulatorio che cerchiamo di seguire con sempre maggiore difficoltà vista la carenza di personale medico. Il diabete è una malattia che a volte può essere suddola, che non dà sintomi soprattutto nelle fasi iniziali, per cui bisogna pensarci, deve pensarci alla persona che ha più di 45 anni, che è sovrappeso, che è sedentario, che ha sedentaria, che ha una familiarità per diabete. I sintomi spesso sono tardivi, il consiglio è di fare regolarmente gli esami del sangue almeno una volta all'anno ogni due anni per evitare di scoprire la malattia quando le complicanze sono già avanzate. Oggi il diabete si può sicuramente curare e prevenire garantendo una vita praticamente normale. abbiamo! Grazie.